E' stato arrestato oggi il famigerato killer delle influencer Matteo Muzzi durante un banale controllo di routine. La polizia lo ha identificato ed arrestato a nulla e valso il suo tentativo di fuga. Presumo che lei abbia letto la perizia psichiatrica sul mio conto. Certo che l'ho letto. Lei pensa che io sia pazzo? Giulia deve farlo confessare. Forse oggi sapremo la verità. Siamo pronti per registrare la confessione dei Muzzi. Tutte le influencer che ho ucciso erano simili a mia madre. Belle fuori ma bene marce dentro. Erano delle vipere. Meritavano di essere giustiziate. Uccide perché gli piace uccidere. Ed è estremamente lucide quando lo fa. Ed è questa la tua missione Giulia uccide. Tu sei venuta qui per tentare un reverse non è vero? Non capisco assolutamente di cosa sta parlando. Giulia sono l'ispettore. Sono vent'anni che aspettiamo questo momento. Giulia noi non te sentiamo più. Il microfono non funziona più. Non sentiamo più niente. Giulia spero che tu riesca a sentirmi. 3, 2, 1, telecamere spette.